Scoperto un agiro di fatture false da oltre 30 milioni di euro a sgominare l'organizzazione criminale Le Fiamme Giale di San Giovanni Valdarno. La banda aveva base in Valdarno ma operava in Toscana, Lombardia, Veneto, Lazio e Campania. Le indagini erano partite da alcune segnalazioni per operazioni sospette che riguardavano un imprenditore di origini campane ma da tempo residenti in Valdarno. Fruttando le risultanze dei conti correnti e le movimentazioni dei conti riconducibili a lui e alle società dallo stesso rappresentate siamo riusciti a ricostruire questo influsso di denaro che serviva per nascondere un giro di fatture false in varie regioni d'Italia. I finanzieri hanno così ricostruito un intreccio economico finanziario tra numerose società, una ventina, alcune realmente esistenti, altre invece fittizie, create unicamente per emettere fatture per operazioni inesistenti e anche per ingenti importi, somme che poi venivano utilizzate anche da aziende in difficoltà in cerca di liquidità. Cercavano questo tipo di sistema ovvero sfruttare le fatture false per crearsi costi fittizi e fare in modo così di pagare meno imposta. 24 in tutto le perquisizioni svolte in più regioni, oltre 30 milioni evasi al fisco ed infine 30 le persone denunciate a vario titolo per reati fiscali e societari, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e bancarotta fraudolenta, coinvolti anche due commercialisti residenti in Campania. Facevano da anello da tramite tra gli imprenditori che facevano parte dell'organizzazione e le società in difficoltà. Nel corso delle indagini portate avanti dalle fiamme gialle coordinate dalla procura di Arezzo sono state rilevate infine anche violazioni alla normativa antiriciclaggio.